Nella puntata di oggi Rivelazione dal futuro Diventare padre Curiosità che non sai Marty, sono il te stesso dal futuro! Devo dirti una cosa importantissima! Ma non puoi essere me! Io sono un uomo! Ah già! Due cose importantissime! La seconda è non sposare Doc! Lo sapevate che il ketchup nel 1930 era venduto come medicina? D'ora in poi abuserò di questa squallida scusa! Buon appetito a tutti! Oi! Sono rimasta incinta di te! Non è possibile! Io sono nato 32 anni fa! Scopri la tua discendenza dalla forma del piede! Egizio Romano Greco Altro Amore! Ricordi ragazzo che ti ha spoilerato alla fine di Avengers Endgame? Certo tesoro Che è successo? È scomparso! E temono il peggio! Pazzesco! Dissi? Robert Pattinson sarà il nuovo Batman! Marvel! Mamma! Devo dirti una cosa! La mia ragazza è incinta! Oddio! Si sa che è il padre! Tranquilli ragazzi! La tartaruga ce l'abbiamo tutti! Dipende da che lato la guardi! Ma chissà come sarà contento il papà! Ah! Ha! 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 becomes Ha! 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 invece ! H è la hotetta! Ho! 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 Ho!